ragazzi buongiorno oggi come te alle mie spalle non sono l'ecco ma mi trovo a praga e vi porterò con me in questi tre giorni mia prima volta qua a praga io l'europa l'ho già un po visitata la polonia l'ungheria e altri posti tutti che vogliono tutti vogliono entrare nel mio video la che avete appena visto è la galleria di lucerna e sta costituita dal 1907 il 1920 ed era un luogo di ritrovo per i letterati tutta la città di praga inoltre ragazzi questa statua qua che avete appena visto non è altro che una parodia in risposta a quella che c'è di fronte al museo nazionale la raga questo primo giorno non stiamo visitando tantissime cose facendo un giretto per la città molto carina è molto simile sia a buddha raga buongiorno seconda giornata con a praga scusate le condizioni ma ieri sera ho mangiato un kebab schifosissimo sono stato malissimo e oggi siamo qua il castello di praga c'è una vista pazzesca questa è un altro che il duomo di praga ed è addirittura patrimonio dell'unesco ed è stata costruita mille 344 pensato ha terminato però nel 1929 i mosaici erano pazzeschi quello che ho capito perché poi mi spesso ascoltare delle guide che parlavano spagnolo no difatti dal miglior modernista di praga nel 1931 questa veramente approvata no ragazzi inoltre qua il cibo ma già l'avevo messo in conto prima di partire non è il top prima ho preso un kebab ieri sera madonna poi pieno taglio la cena dell'hotel ragazzi mamma mia che bravo abbiamo mangiato un'insalata che era fatta male pure quella poi ho mangiato anche le patate mamma mia non ve lo so nemmeno dire questo è il periodo che altro ma è pieno di italiani più italiani che altro in questi due giorni i local ne vedi pochi sono tutti scontrose arrabbiate ogni volta e ti prendono sempre a spallate a poco cordiali come la vedi fraga carina poco del pastello 300 euro non lo consiglio perché la cosa che ti piace di più mi sicuro nel cibo il mente non riesco a dire perché non l'abbiamo ancora a visitare tutto abbiamo ancora domani sinceramente in questo momento non mi ha facciuto niente sei un essere antipatico abbiamo mangiato ci siamo ripresi non sono più mezzo morto come stamattina dove andiamo non si sa chiesa una chiesa perché tante le abbiamo visto poche richiede la ragazza ante a vedere il fuori john lennon un normalissimo muro colorato comunque in sta città ci sono solo ambasciate birrerie chiese e ponti basta finito finito ciao io sono marigallo e stasera siamo a prada in una discoteca con la maglietta i love prada seguiteci e ora siamo venuti a vedere dei libri di installazione dentro la biblioteca di praga ragazzi è un blu perso pensavamo fosse più grande non venite no perché perché divertente sono sì si piace di lui può allora allora i love prada supporto in questo cuomo che sta vincendo Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto il giorno? Mi dispiace Ma adesso andiamo a divertirci a Praga Ciao raga Siamo in distanza che a Praga Un città di costa 5 euro Il punto è che tra un'ora e mezza dobbiamo andare in hotel E' come bello? No, 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 no No, no, no Ilumina San Siro Con il numero 19 Teo Hernandes Teo Hernandes Teo Hernandes Buongiorno Terzo giorno ed ultimo in questo posto Sono nel quartiere ebraico Ma non abbiamo ingressi per fare niente Quindi le guarderemo tutte da fuori Quindi Cioppi Mi do tantissimo stanotte Quindi sono bello carico Addirittura 6 ore Siamo qui Nella piazza della città vecchia Molto caratteristica Ma io uno lavoro Non si può lavorare in queste condizioni Io devo apparire un eclipse Però mi paghi Io me ne vado Città vecchia Piazza Molto carina L'orologio astronomico Allo scoccar dell'ora Siamo fanno i 12 apostoli E non so tra quanto funzioni Quindi spero di riuscire a riprenderlo Non mi ricordo il nome Ma è anche È un dolce tipico Che c'era anche a Budapest Porta di frittella Tutta Tutta tonda Gelato Tipo quello che gli davano Quando eri piccolo All'asilo Mega Roba alla turista Freddo congelato Super zuccherato Non è che ha proprio Un sapore proprio Sta di zucchero Gelato Qua la stiamo mangiando Come degli animali Cotto Fraghese Cotto fraghese È buono Il culo Patate Patate, crauti E bacon È una delle robe Più buone Che ho mangiato Di questi giorni Il prosciutto Ci scioglie in bocca È assurdo Ci ha spesito Queste super saporite Approvato Come non è più provare Ha le affinite Approvato E qui Nel chilling Più totale Ho fame ok Di fronte qua Alla piazza Ta Ciapa Qua c'hai tutto il tuo baracchino E poi Te lo mangi qui Adesso abbiamo Un momento libero Da vedere tipo Delle robe di baschi E poi vedere Freud appeso Siamo entrati ragazzi Siamo dentro Abbiamo vagato nemmeno Purtroppo con lo sconto Studenti Abbiamo pagato Sette ore cinquanta Mostra finita Carina Ci stavo Tanto per fare qualcosa Adesso andiamo a vedere Freud Raga anche Freud visto Ho fatto tutte le robe Mainstream Di questo posto Perfetto Rio al turista Credo verso le 6 Ci dirigiamo all'aeroporto E nulla Sto rosicando Devo essere sincero Perché sono le 4 E tra due ore C'è il derby di Praga Non posso andare Perché dobbiamo andare all'aeroporto Alle 18 Però ragazzi Vuol dire che Torneremo qua E gli dedicheremo Un bel video All'aeroporto Abbiamo appena finito di mangiare Consegnato la valigia Per il check in Sono un po' stanchino Lo devo ammettere Ciao Ci abbiamo fatta Atterrati Vediamo le valigie Cazzo le valigie Viaggiamo più tardi Siamo tornati da Praga Ragazzi Dobbiamo ritirare le valigie Ma non si trovano Se volete possiamo andare A fare un viaggio All'interno di questa cosa qui Vai vai Sentiamo Andiamo C'è un cazzo No E ce l'hanno obbligato I li palassi E mei di Punto Gallo Cosa vi è piaciuto Di questa città Praga Un po' stanchi Dobbiamo dire Ok Cosa vi è piaciuto Di più di questa città Praga La marata al cioccolato Che sta mangiando Serata in discoteca Serata in discoteca Ci è piaciuta assai Perché c'ero io Esatto Esattamente Non è piaciuto Perché c'ero storie Non è vero Sto scherzando Mi è piaciuto molto Ballare con le nostre Professore A me no Perché c'ero storie L'uomo più grosso Mi ha venduto in discoteca In cambio di un drink Letteralmente venduto In discoteca Sincero ha fatto bene Pensi Cosa ne pensi In carcere Qua Ora qua L'abbiamo lì del nastro Oh 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 Godo Ho sbancato ancora Ci siamo La mia arrivata Godo tantissimo I will be stronger They'll call me kingdom Just like the way